Per parlare di North Star Designer bisogna andare agli inizi della storia di Vellut Luna. E scusate se me la prendo larga, ma io credo di essere una delle persone che meglio conosce la storia di questa italianissima ditta, di queste inizialmente due menti pensanti, due amici, che si sono ritrovati con l'entusiasmo giovanile a voler dare vita a un sogno meraviglioso all'epoca, perché era quello appunto di costruire una ditta di elettronica di consumo di alta qualità e, come mi piace dire, dal volto umano. Gli inizi di North Star coincidono con gli inizi di Vellut Luna. Infatti, devo dire che io ho incontrato questo marchio prima ancora che nascesse e mi spiego. Nel 1997, cioè due anni dopo la fondazione di Vellut Luna, trovo il primo accordo distributivo importante con quella figura mitica della distribuzione discografica e all'epoca non solo italiana, che è Alfredo Gallacci, il toscanaccio Alfredo Gallacci. Grande amico, grande appassionato. E ricordo ancora quel primo incontro che feci nella sua sede a Lucca, in cui mi presentò il suo collaboratore, potremmo chiamarlo dirigente del momento, che era un ragazzo molto giovane, molto haitante, molto brillante, che si chiamava e si chiama ancora Marco Manunte. E in breve tempo ovviamente si creò, si venne a creare un'amicizia sincera con Alfredo, ma anche con Marco, il quale non tardò a raccontarmi della sua grande idea che aveva avuto assieme a un collega di università, un certo Giuseppe Rampino, che io non conoscevo ancora, di dar vita appunto a questa North Star Design, perché avevano questo progetto di questo DAC, in qualche modo non tanto rivoluzionario, ma che sapeva riassumere in sé tutta una serie di caratteristiche tecniche coniugate al buon suono e tutto sommato a un prezzo assolutamente onesto. Sapete, sono le tre grandi virtù di un oggetto hi-fi per ogni appassionato che si rispetti. E infatti dopo non molto Marco lasciò la ditta di Alfredo, Sound & Music, per dar vita assieme appunto a Giuseppe Rampino alla North Star Design, e fu in quell'occasione che io poi conobbi anche Giuseppe. Da quel momento, ripeto, il loro percorso è stato un po' parallelo al mio, nel senso che ogni volta che c'era una novità, un aggiornamento, un nuovo oggetto da proporre al pubblico, io ero, se non il primo, sicuramente fra i primi ad ascoltarlo, a provarlo, a dire cosa ne pensassi, a provarlo sul campo, ovviamente. Un campo che, come ben sapete, è sempre stato diviso fra l'appassionato che io sono, di bel suono, di begli oggetti, di alta fedeltà, ma anche il professionista della musica, il produttore discografico. Quindi, quale banco di prova migliore per i due giovani rampanti ingegneri, che non un personaggio come me, che quindi poteva offrire sia il parere del professionista della musica, ma anche quello dell'appassionato. Una sorta di beta tester, direbbero quelli bravi, no? Inutile dire che ho posseduto tutti i DAC, tutti, nessuno escluso, fin dal primo, ripeto, leggendario Model 3, e quindi ho potuto toccare con mano l'evoluzione di questo progetto. Sì, perché North Star, e ci tengo subito a spiegare bene questa idea, è un progetto, cioè non è una macchina buttata lì, con poi un'altra che arriva dopo buttata là. Cioè, la costruzione, la progettazione del DAC North Star prende le mosse fra il 95 e il 96 e continua ad evolversi fino a pochissimi mesi fa. Intendo dire che l'ultimo oggetto creato da Giuseppe Rampino, il Model 20, non si chiama neanche Model, il 20, che celebrava i vent'anni di attività di questa ditta, non è altro che un gigantesco Model 3, non è altro che l'evoluzione finale del Model 3. Manunta e poi Rampino, quando pochi anni dopo si creò questa consensuale separazione e Marco appunto diede vita ad un'altra ditta propria, la M2 Tech, con cui ha continuato a fare cose meravigliose, però un po' differenti da North Star, così come invece Giuseppe Rampino ha proseguito dando ancora di più la sua impronta autoriale al progetto North Star. Però, progetto North Star che, ripeto, ha continuato ad evolversi su idee precise, su concetti precisi, e migliorandosi evidentemente in funzione del miglioramento anche della tecnologia, del miglioramento che come sapete procede alla velocità della luce nel campo dei chip di conversione. Una cosa che però distingue North Star, come tutti i grandi marchi, non è solo e non tanto il freddo chip di conversione, che certamente è sempre stato aggiornato al meglio disponibile di volta in volta. Ma il vero cuore del sistema è tutta la parte analogica, è l'alimentazione che è sempre stata un'alimentazione solida, sostanziale. All'interno dei North Star non troverete cipettini di alimentazione da due lire, ma robusti toroidali. Troverete sempre nella parte analogica componenti discreti e questo fra l'altro, come vedremo fra poco, è un vantaggio non indifferente anche su un fronte di cui appunto parleremo fra poco. Dicevo ho avuto tutte le evoluzioni dei sistemi di conversione, quindi dal Model 3, Model 4, poi il 192 che era un gradino superiore sotto molti punti di vista, per arrivare poi, una quindicina d'anni fa vado a memoria, al primo vero reference che fu l'Extremo. L'Extremo è un convertitore imperiale, un convertitore dotato di grande rigore, grande musicalità, grande trasparenza sonora, un duck che è stato amato e odiato nell'ambito degli appassionati, perché appunto un duck trasparente. Ecco quindi che trattandosi di una macchina trasparente aumentava la percezione delle differenze di tutti gli altri oggetti a monte, ma soprattutto a valle di sé. E quindi è ovvio che impianti sbilanciati in una direzione piuttosto che in un'altra, soprattutto dal punto di vista timbrico, potevano far dire a qualche appassionato suona freddo sulle medio-alte, altri addirittura, mi ricordo un appassionato che aveva detto, ma mi sembra un po' scuro rispetto ad altri convertitori. Cioè, tutto è contrario di tutto. In realtà è il triste, fra virgolette, destino delle macchine trasparenti. Cioè, questo destino che è quello di mettere in luce, diciamo così, un po' le magagne di quello che sta loro attorno. Io ho usato l'Extremo non solo per molto tempo, ma in molti contesti. Nel senso che alla fine ne avevo addirittura tre. Perché ne avevo uno che mi serviva come centro di conversione DAC dell'impianto monitor di riferimento. Un altro che mi serviva come centro di conversione DAC dell'impianto della regia di lavoro. E infine un terzo che aveva un ruolo cruciale, come sapete, io da moltissimi anni utilizzo la pratica del missaggio in dominio analogico. Così come anche il mastering in dominio analogico. Quindi avevo bisogno, e ho bisogno tuttora, di un DAC rigoroso, di qualità assolutamente superiore, che si occupi della conversione dell'originaria ripresa. Quindi del premix, del premastering. E quindi capite bene come questo DAC in particolare rivesta un nodo addirittura cruciale nel workflow della produzione da Lutluna. Ebbene, questo ruolo per moltissimi anni è stato affidato appunto ad un DAC estremo della Nostar. Un DAC però un po' particolare. Sì, perché le caratteristiche di base, le caratteristiche elettriche, il livello d'uscita ad esempio, dell'oggetto nato per uso consumer, anche dalle uscite bilanciate, offriva un'uscita appunto a un livello più basso di 6 dB rispetto agli standard professionali integrati nel mio sistema di lavoro. Ecco quindi che io chiesi a Giuseppe una cosa che mi sembrava addirittura banale o semplice nella mia ingenua così non conoscenza della problematica tecnica, elettrotecnica specifica. ovvero di innalzarmi l'uscita dell'extremo di 6 dB per renderlo, pareggiarlo, allo standard delle mie altre macchine. E questo però Giuseppe mi ha detto guarda che non è così banale come tu pensi. Per fare questo, infatti, ho dovuto apportare tutta una serie di modifiche anche allo stadio di alimentazione, ha cambiato addirittura alcuni componenti della sezione analogica d'uscita proprio per adeguare il tutto a questa, diciamo, grande tensione. Il risultato fu che la macchina, ad esempio, scaldava molto di più. Ecco che quindi venne fatta una modifica anche allo chassis per dissipare meglio il calore che veniva a generare. Il risultato però fu sorprendente. A mio parere, ma anche a parere di tanti colleghi che ebbero l'occasione di sentire quell'oggetto a confronto con il fratello che invece manteneva le caratteristiche consumer, fu eclatante anche proprio dal punto di vista del suono, della velocità di risposta. Insomma, tutti i parametri, ovviamente, dinamici, migliorarono moltissimo. Questo tritico mi ha accompagnato veramente per molto tempo ovvero fino a quando io non ho avuto la necessità, per esempio, di avere non più un DAC stereo che si occupasse di questa conversione così di lavoro ma di un DAC multicanale. Ecco, a quel punto, ovviamente, ho dovuto alzare le mani e andare a cercare sul mercato del professionale un DAC multicanale che non mi facesse rimpiangere il nostro amato extremo. E l'ho trovato, fra l'altro, incidentalmente, in quegli oggetti che tuttora continuo a utilizzare ovvero nei convertitori della Lynx, convertitori AD e DA che a questo punto si occupano sia della fase proprio prima di registrazione con l'AD che poi della fase di post-produzione con il DA inizialmente fu un Aurora 16 ora è un Lynx Aurora N macchina strepitosa a cui dedicheremo prossimamente un'altra puntata di questi miei racconti. A un certo punto Giuseppe mi chiama e mi dice guarda che ho creato un oggetto destinato a sostituire l'extremo si chiama Supremo vabbè, qui si gioca su... evidentemente quando tu fai un extremo quale degno successore può essere se non un Supremo comunque a parte la battuta legata a questi a questi nomi un po' ridondanti ma che comunque hanno il loro significato io mi ponevo il dubbio e cioè dico ma caspita che cosa potrà mai fare di più dell'extremo che ritenevo veramente un punto d'arrivo al di là ripeto del chip di conversione che credo sia stato cambiato sia nuovo io sapete non mi occupo molto dei numeri di questi dettagli a me interessa da buon pratico il risultato sul campo il risultato all'ascolto che poi credo sia un po' l'interesse di tutti insomma fermo restando che non ci vogliamo mettere in casa un trabiccolo plasticoso ma insomma quello che conta è il risultato sonoro io penso al di là di come questo risultato sonoro viene raggiunto e insomma arriva in prova questo Supremo ancora una volta un preproduzione e un po' mi spiazza nel senso che inizialmente dico ma sì è diverso però non ero affatto sicuro che fosse migliore dell'extremo era sicuramente diverso molto simile molto ovviamente famiglia non star quindi anche lì era molto difficile poter dare un giudizio perché comunque l'impostazione sonora tutte le caratteristiche che avevo imparato amare da almeno 15 anni restavano assolutamente immutate però con questa ulteriore evoluzione e dovevo capire qual era questa evoluzione perché con certezza facevo fatica a dire suona meglio dell'extremo sicuramente suonava diverso la faccio breve parlavo della grande trasparenza dell'extremo e indubbiamente nel momento in cui venne progettato e costruito credo che ci fosse qualcosa difficilmente più trasparente dell'extremo il supremo in realtà lo era ancora di più cioè credo grazie soprattutto non tanto al chip di conversione ma ancora una volta interventi nella parte analogica di alimentazione il supremo era riuscito a linearizzare ulteriormente attenzione seguitemi bene non tanto la gamma alta medio alta alta e altissima che alla fine mi sono reso conto era sostanzialmente era ed è sostanzialmente coincidente con l'extremo ma era riuscito a spingere in una linearizzazione addirittura sorprendente della gamma medio bassa e bassa raggiungendo vertici di trasparenza che ascoltando il supremo mi resi poi conto essere leggermente carenti nell'extremo cioè l'extremo era sì trasparente in tutta quella gamma che va diciamo dai 500 Hz in su dai 500 Hz in giù era ed è perché ripeto se ne trovano in giro tantissimi estremamente veloce profondo rotondino 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 ma non rotondo ecco che ad esempio il supremo diventa rotondo oltre che preciso veloce definito profondo il lavoro quindi di Giuseppe e non chiedetemi come questo sia stato ottenuto perché ancora una volta non mi interessa nel supremo è stato quello di completare il lavoro nella direzione dell'assoluta trasparenza anche in gamma bassa e non esiste modo migliore per cambiare la resa ad alta frequenza se non intervenire sulle basse frequenze qui potrei aprire una parentesi e la apro quando qualcuno mi dice ma devo usare il sub o non devo usarlo in un sistema di diffusori certo che devi usarlo ma certamente non tanto per anche quando hai diffusori che scendono a 35 hertz 40 hertz devi usare il sub ma perché non tanto per andare a sentire quei pochi dischi di organo che arrivano a 19 hertz piuttosto che certa musica elettronica che scende in modo artato a frequenze bassissime ma perché il fatto di sgravare quella delicatissima gamma di frequenze che occupa tantissima energia consente poi agli amplificatori che si occupano delle parti della gamma superiore di lavorare molto meglio e quindi alla fine garantiscono questa resa migliore anche e soprattutto della gamma medio alta e alta media medio alta e alta ovviamente il discorso che dobbiamo fare col Supremo è abbastanza differente non viene sgravato nulla nel progetto del Supremo ripeto semplicemente viene posta una grande attenzione alla resa della gamma medio bassa e bassa il Supremo è l'ultimo oggetto North Star unitamente alla gloriosa meccanica lettore CD la storica CDM12 Pro della Philips implementata ai massimi livelli possibili e che nel corso del tempo di fatto non è mai cambiata per quanto mi risulta perlomeno fino a quando la Philips non ha smesso di produrla e quindi mi diceva Giuseppe che a quel punto ed eravamo circa 5 anni fa sarebbe stato sempre più difficile trovare quella meccanica originale Philips ancorché l'assistenza veniva garantita da alternative costruite in Estremo Oriente dei cloni in buona sostanza dell'originale CDM12 comunque dicevo unitamente allo storico transport il Supremo troneggia ancora all'interno del mio impianto monitor di riferimento e mi sono posto varie volte l'idea la domanda se sostituirlo oppure no ma la risposta per il momento è sempre stata no perché sostituire una cosa che non solo funziona molto bene ma di cui non riesco a vedere all'orizzonte qualcosa che possa andare meglio perlomeno nel mio contesto e soprattutto possa andare meglio ad un costo umano non ho parlato di prezzi è abbastanza superfluo parlare di prezzi secondo me certo oggetti di riferimento ma nella loro categoria merceologica assolutamente best buy assolutamente concorrenziali intendo dire un extremo poi anche un supremo avevano dei costi oscillanti attorno ai 3.000 3.500 4.000 quando uscì forse il supremo sinceramente non lo so non ricordo cosa io gli avevo pagati però insomma la fascia era quella però per trovare qualcosa di analogo bisogna moltiplicare per 3 parliamoci chiaro quindi quindi il supremo è ancora lì ad aglietare sia il mio piacere d'ascolto d'appassionato così come anche il ben più impegnativo ruolo di DAC di riferimento per le mie registrazioni nel momento in cui devo licenziarla in via definitiva per il pubblico ho parlato un po' al passato un po' al presente perché la brutta notizia che devo dare è che North Star ha cessato definitivamente la sua operatività purtroppo negli ultimi anni Giuseppe ha dovuto affrontare una serie di problemi logistici insomma di varia natura che fra l'altro neppure conosco esattamente nel dettaglio fatto sta che con un lento e doloroso processo di chiusura durato credo almeno due anni si è arrivati alla fine alla chiusura definitiva la North Star Design non esiste più e questa è la notizia veramente brutta che posso dare in via definitiva anche perché prima di dare questa notizia ho parlato con il distributore nazionale per avere conferma di questo fatto visto che Giuseppe veramente non lo sento da molto tempo e probabilmente ha anche cambiato numero di telefono perché non riesco a raggiungerlo non sono riuscito a raggiungerlo spero prossimamente di incontrarlo e farci una chiacchierata davanti a una pizza per parlare e così scoprire come sono tristemente andate le cose in chiusura questa è una pessima notizia perché non ci sarà un'ulteriore evoluzione di questo marchio glorioso e veramente che ha sempre offerto una qualità strepitosa non è però adesso molti si staranno così possessori di North Star dicono oddio adesso cosa faccio cosa non faccio non preoccupatevi nel senso che per come sono costruiti i North Star ovvero essendo macchine sostanzialmente aperte che utilizzano componenti sostituibili e identificabili in qualche modo sono macchine che possono ricevere un'assistenza esterna senza alcun problema intendo dire se domani avrete un problema vi potrete rivolgere ad un ottimo eccellente laboratorio di assistenza certificato che aprendo la macchina saprà assolutamente identificare il problema e risolvervelo il bello dei grandi oggetti delle grandi costruzioni è anche questo cioè il fatto di non restare indissolubilmente legati ad esempio ad un chip integrato che produce la grande major chiusa quella major finita la produzione di quel chip lì buttare via la macchina no North Star i DAC le meccaniche saranno sempre secondo me potranno sempre essere così riparati qualora perché dovessero rompersi perché sono oggetti dell'umano agire quindi fallacci come tutti noi e quindi bisogna mettere in conto che possano anche rompersi ripeto potranno essere così riparati assistiti comodamente da tecnici ovviamente competenti e preparati certo non l'ultimo arrivato ma questa possibilità c'è e resterà credo per sempre per cui i credo molti possessori di questi apparecchi devono dormire sonni tranquilli la cosa triste è che appunto non avremo dei nuovi non stare e questo capite bene dopo quasi 25 anni di collaborazione stretta è come un po perdere perdere una una persona di famiglia sapere che il prossimo dacche che dovrò comprare non potrà più essere non stare dovrà essere qualcos'altro voi sapete forse quanto io sia abitudinario ami non cambiare quello che funziona solo per il gusto di cambiare ecco quindi spero che il supremo continui ad assistermi a lungo perché per l'appunto non ho nessun motivo di sostituirlo e quindi continuerò a godermelo spero veramente veramente a lungo però non posso certo lasciarvi con questa conclusione un po mesta un po triste e quindi passiamo in conclusione come del resto accade quasi ogni volta alla fine dei miei video all'ascolto di ciò che noi amiamo di più cioè la nostra amata musica e lo facciamo ancora una volta con un disco Valut Luna un disco Valut Luna che io amo molto è questo disco qua si intitola Petite Suite ed è un disco a nome di Jeremy Norris e Fabio Franco allora è un disco in quartetto pianoforte flauto contrabbasso e batteria però decisamente molto particolare la formazione si pone in qualche modo a cavallo fra il mondo della musica classica e il mondo della musica jazz andando a ripercorrere un po' un certo stile è reso molto famoso ormai da tantissimi anni dal celeberrimo pianista francese Jacques Lussier Jacques Lussier come penso tutti saprete ha dato vita ad un classico piano trio jazz pianoforte contrabbasso batteria e si è presentato al mondo proponendo delle letture di alcuni dei brani più celebri di Johann Sebastian Bach in stile appunto con variazioni jazzistiche per così dire poi nel corso di tanti anni di carriera ha così sviluppato un confronto potremmo dire con Mozart piuttosto che con Vivaldi bene Jeremy Norris si pone in quel solco però in via in modo originale ovvero proponendo due suite la suite numero 1 la suite numero 2 di sua composizione suite che in qualche modo richiamano presentano l'eco dello stile classico mescolato appunto alle prassi interpretative tipiche del jazz ancorché siamo al cospetto di brani scritti di musica scritta scritta ma anche un po' improvvisata almeno per quanto riguarda la parte della ritmica insomma un disco estremamente piacevole germinorris è inglese ma da tantissimi anni vive ed opera in Veneto nella zona di Treviso Fabio Franco invece è un prestigioso interprete del suo strumento classico evidentemente ma altrettanto evidentemente di mentalità aperta e quindi disponibile anche fra virgolette a giocare nel senso più nobile del termine nel senso francese ed inglese del termine a giocare e quindi ha trovato un punto d'incontro con questo inglese trapiantato in Veneto hanno dato vita a questo quartetto un quartetto che appunto viene integrato dalla ritmica di Daniele Carnio al basso e Simone Gerardo alla batteria il brano che ho deciso di farvi sentire oggi si intitola omaggio a Claude Bollain è l'inizio della suite numero due e insomma già nel titolo è chiaro un ulteriore riferimento Claude Bollain infatti è stato un altro autore in questo caso francese molto così prolifico e anche lui in qualche modo vicino a questo mondo a questo afflato a questo stile compositivo a questo approccio crossover fra il mondo della musica classica e il mondo della musica jazz idealmente mi piace andare a farvi sentire il cd e ovviamente non posso che farvelo sentire per il tramite della coppia storica North Star meccanica transport North Star e convertitore DAC supremo per cui adesso ci alziamo e andiamo idealmente ad inserire questo cd nella meccanica North Star e e lo stesso fiers e fatta queste pesano pesano Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.